Spero proprio di non cadere e di non prendere tanti soldi dall'assicurazione! Ups! Mi scusi, cameriera, c'è una formica nel piatto! Credo che questo mi dia diritto a un posto offerto dalla casa! Bonjour! Sono un principe giunto da una terra molto lontana. Puoi darmi le tue coordinate bancarie? Oh, questa vita da gatti è più dura di quanto credessi. Yogi, ecco dove eri! Ti supplico, devi tornare subito in ospedale! Io sono impegnatissima e ormai è chiaro che Bubu non è un chirurgo! Mi hanno denunciato per negligenza medica! Non se ne parla, ve l'ho spiegato ragazzi, io sono un gatto, devo pensare a cose da gatto! Ti pego Yogi, abbiamo bisogno di te! Guarda, ti ho preparato un bel cestino da picnic! Oh, che profumino! Oh, io sono un gatto adesso, non riuscirete mai a portarmi via dalla mia nuova famiglia! Come mi chiamo? Ehm, provo a dire maglia viola! Ehi, io credo ancora che tu sia un gatto alle prime armi! Pagami di nuovo la quota e continueremo l'addestramento! Non ho più soldo! Ah, non tutti possono essere gatti! No, 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 no! Vi dimostrerò che sono davvero un gatto! Io mi rifiuto di deludervi, amici! E credo di avere già un'idea! Un castello gonfiabile! Ma i bambini non hanno soldi! Infatti sarà un castello gonfiabile per adulti! Distribuiremo dei volantini per pubblicizzare uno specialissimo evento di gala in abito da sera! Quando cominceranno a saltare, i soldi e gli altri oggetti di valore cadranno dalle loro tasche! E noi saremo lì a raccogliere tutto! Ottimo piano! Stavo per proporlo io! Evviva! Un castello gonfiabile adatto a me! Benvenuto al mio castello gonfiabile deluxe per VIP, monsieur! Oh! Sai, Yogi, avevo qualche dubbio che fossi un gatto, ma ci vuole una veramente felina per eseguire un colpo del genere! Eh, nessuno credeva che lo fossi e guardatemi ora! Miau, 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 miau! Wow, stop! Andando in bicicletta! Non c'era niente da tenere! Oh no! Se non riuscirò a schiacciare queste patate entro stasera, di sicuro perderò il lavoro! Dato che ho appena fatto demolire quel pericoloso skate park, posso finalmente dichiarare Gellyston, la tredicesima città più sicura della contea! Avviva!